Estra S.P.A. riscontrate le sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari informa con rammarico di aver deciso di rinviare l'operazione di quotazione in borsa. Estra S.P.A. conferma comunque la volontà di perseguire l'obiettivo della quotazione. Estra Clima lancia la Call for Energy Saving per l'efficientamento energetico, un investimento di 6 milioni a favore di imprese industriali e terziarie e di associazioni sportive di Toscana e Marche. Estra, in collaborazione con Nana Bianca, promuove la seconda edizione di E-Cube Startup and Idea Challenge, la selezione che premia le migliori idee digital ed energy di start-up e società non di capitali. Ecco Casa Chiara, l'amministrazione idroelettrica di Castel San Nicolò, aperta da Idrogenera, società di Estra e Nuova Telm, per realizzare centrali a basso impatto ambientale. La centrale fornirà luce a 70 abitazioni.